Eccolo qui! Ecco Donald Trump con la sua famiglia, con i figli, con la moglie. E' un'immagine che fa la storia, è l'uomo preso in giro dal primo all'ultimo giorno della campagna elettorale che si prende così la sua rivincita. Giocando sul titolo di una serie famosa, Barack Obama disse di lui che l'orange non è il nuovo blanco. E invece l'uomo con i capelli non sa te a prendere il vero a quel che a fare. Colore arancio è diventato il presidente degli Stati Uniti d'America. E con lui ecco la sua famiglia. Appare commosso. Appare visibilmente commosso Trump. Gravatta rossa è il colore del partito repubblicano. Saluti alla famiglia del vicepresidente Pence. Ed ecco. Grazie. 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 Grazie tante. Mi dispiace avervi tenuto in piedi fino a tarda ora. Mi ringrazio sentitamente. Grazie. Ho appena ricevuto una telefonata dal segretario Hillary Clinton. Ha espresso le sue congratulazioni nei nostri confronti per la nostra vittoria e io mi sono congratulato con lei per una campagna condotta con grande tenacia. È stata molto determinata. Hillary ha lavorato assiduamente per un lungo periodo di tempo e dobbiamo a lei un grande debito di gratitudine per il suo servizio prestato alla nazione. e lo dico in tutta sincerità ora è giunto il momento di ricicatrizzare le ferite delle divisioni. Mi rivolgo a tutti gli americani di qualsiasi orientamento politico. È giunto il momento di riunirci. In quanto un solo popolo è giunto il momento di tornare ad essere uniti. Lancio un appello. Lancio un appello a tutti i cittadini del nostro paese. Vi prometto che sarò il presidente di tutti gli americani. Per coloro che hanno scelto di non sostenermi e sono stati davvero pochi, vorrei porgeri in avanti una mano e vi chiedo il vostro aiuto in modo da lavorare insieme per unificare il nostro grande paese. Come già ho detto all'inizio, la nostra campagna non è stata una campagna, piuttosto è stato un movimento incredibile costituito da milioni di grandi lavoratori americani che amano il paese e che vogliono un futuro più durosio per sé e per i loro figli e i loro riporti. È un movimento che comprende americani di tutte le razze, religioni e retroterra che vogliono prestare il servizio agli americani e io renderò servizio al popolo americano. Dobbiamo lavorare insieme. Lavorando insieme inizieremo il compito urgente di costruire la nostra nazione, rinnoveremo il sogno americano. Ho trascorso tutta la mia vita nel settore imprenditoriale. Ho cercato di sprigionare il potenziale nascosto in progetti e in persone in tutto il mondo. E' questo quanto voglio fare adesso per il nostro paese. Il nostro paese ha un potenziale sterminato. Ho avuto l'onore di conoscere il paese in profondità. Sarà un viaggio meraviglioso. Tutti gli americani godranno di opportunità per sprigionare il proprio potenziale. Nessuno resterà indietro. Nessuno verrà dimenticato. E noi sistemeremo le nostre periferie. Costruiremo ponti, autostrade, scuole, aeroporti. Ricostruiremo le infrastrutture di questo paese. Il nostro paese, tra parentesi, diventerà numero uno di nuovo. Milioni di cittadini torneranno al lavoro per ricostruire il paese. Inoltre, infine, ci prenderemo cura dei nostri reduci di guerra. Ho conosciuto molti di questi leali reduci di guerra. Questo viaggio è durato 18 mesi. E l'onore più grande che ho avuto è stato quello di conoscere i veterani, i reduci. Rinnoveremo il paese, tornerà la crescita. Torneremo a sviluppare il talento dei cittadini e i nostri cittadini potranno finalmente esprimere il meglio di sé. Noi abbiamo un piano economico efficace. Raddoppieremo la crescita. Avremo la più grande economia al mondo. Contemporaneamente andremo d'accordo con tutte le altre nazioni che vorranno andare d'accordo con noi. E sarà così. Avemo rapporti proficui con tutte le nazioni. Non c'è sogno che non sia abbastanza grande. Non c'è sfida che non possa essere raccolta. Non c'è nulla che non possa essere alla nostra portata. Non ci accontenteremo di compromessi al ribasso. Cercheremo di raggiungere il meglio. Dobbiamo riconquistare il nostro destino. Dobbiamo sognare in grande. Dobbiamo essere ambiziosi. Dobbiamo fare così. Dobbiamo sognare in grande per il nostro paese. Dobbiamo sognare cose meravigliose. Dobbiamo tornare a sognare il successo. Voglio dirmi, dire alla comunità internazionale che noi porremo i nostri interessi in prima posizione. Però agiremo in maniera giusta con tutti. Con tutti i popoli e con tutte le altre nazioni. Noi cercheremo dei terreni di intesa, non ostilità. Grazie. 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 Grazie.